Questa è la processione? No! Un quasi peggio! Come sta a forza? Contro Sassuolo abbiamo avuto un po' di sfortuna, diciamo, perché abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo portato a termine, però questo è il calcio, abbiamo portato un punto in casa e non fa nulla, cerchiamo di giocarci la partita, questa con l'Atalanta e vedere cosa ne esce fuori. Sicuramente entriamo in massima concentrazione come se fosse la prima di campionato. Le motivazioni ce ne sono migliaia e migliaia, come abbiamo visto le motivazioni di oggi ci sono venuti i tifosi a incoraggiarci, a stare con noi fino alla fine e soprattutto non dobbiamo deluderli. Sicuramente andremo in campo per onore alla maglia e per fare un grande campionato fino alla fine. Diciamo che abbiamo fatto una grande gara, una grande gara purtroppo, consiste anche di portare, sì, dobbiamo portare anche a casa i tre punti, però questo non è successo, c'è mancato magari negli ultimi metri di essere più cinici, però il calcio è questo, magari a volte ti va bene, a volte non ti va, quindi noi cerchiamo adesso di lavorare su questo fino alla fine e speriamo di portare a casa più i tre punti. Mario?